Le cose stanno cambiando, i segnali sono chiari, non c'è più tempo, il futuro è tutto da costruire. Servono uomini, è subito! Con tutto il rispetto signore, qui non servono uomini, servono uomini formati! In un mondo che va veloce, in un settore sempre più modernizzato, in un panorama di formazione così evoluto, diventa anche tu, operatore edile. Grazie a tutti!